Professore Saviano ci risiamo fortunatamente con la sedicesima edizione di Sport Days 2017 Beh intanto grazie a tutti voi della stampa per la presenza e per il sostegno che è data la manifestazione La manifestazione non è che cambi molto rispetto agli anni passati che perché vede sempre il protagonismo dei più piccoli all'interno della manifestazione questo ha significato che lo sport deve essere soprattutto protagonismo e non deve essere lo sport seduto perché così imparano anche a ragionare i ragazzi e poi l'accento va posto come già detto in conferenza stampa verso il mondo del volontariato che sempre più sostituisce quelli che sono i bisogni effettivi delle persone ma questo non è che sia proprio un fatto positivo perché credo che le cose debbano funzionare al di là del volontariato il volontariato deve essere un valore aggiunto ma non sostitutivo delle attività quotidiane naturalmente lo sport desi serve anche a porre l'accento sulla questione dell'impiantistica tanto è vero che il Campocone sarà appunto il teatro di una ristrutturazione con un intervento molto importante che dovrebbe raggiungere circa il milione di euro in modo tale da essere fruibile pienamente da tutti gli appassionati di attetica leggera e di altre attività e in più anche per altri sport Gli sforzi organizzativi del Comitato Provinciale del CONI di Avellino uniti agli sforzi editoriali del nostro gruppo perché possiamo ufficializzarlo prima TV e Telenostra per il secondo anno consecutivo il Radieranno Sport Days tutti i giorni in diretta dalle 18 alle 20 È stata una cosa carina nel senso che molti bambini praticamente hanno instaurato un rapporto appunto di amicizia con la stampa grazie al fatto che voi state lì però con questo sottolineiamo anche il fatto che tutti gli altri giornalisti sono vicini e amici della nostra manifestazione Il vostro è un sostegno maggiore e io vi ringrazio per quello che ci date